Open Calabria ieri ha pubblicato uno studio del ricercatore dell'Università di Bari, Raffaele Lagravinese, che analizzando i dati elaborati da Union Camera nel 2017, racconta come qualcosa stia cambiando nelle regioni del Meridione dopo anni di dura crisi. La ripresa si è percepita principalmente dal numero di nuove attività, da una maggiore partecipazione femminile e da un aumento significativo di nuove imprese digitali. Nel complesso, le regioni del sud presentano un saldo positivo nettamente più alto rispetto a quello del centro-nord. Buone le performance registrate anche dalla Calabria, soprattutto tenuto conto della popolazione residente rispetto alle altre regioni meridionali più popolose. Tuttavia, bisogna tenere i piedi ben piantati per terra. I buoni risultati, infatti, di questi ultimi anni non bastano. Troppi sono stati punti di valore aggiunto persi in sette anni e si dovrà lavorare ancora per rendere i segnali della ripresa sempre più robusti e omogenei. Molto c'è ancora da fare, ad esempio, per quanto riguarda l'occupazione, soprattutto quella giovanile, che nel sud presenta numeri drammatici. Tuttavia, il sud sembra essersi rimesso in moto.